rosso come il tuo martini martini rosso perché questa è l'ora di martini rosso martini rosso dove vuoi quando vuoi con chi vuoi perché martini rosso è carriera la forza del vero jeans ma che pizzaiola adesso prendi il tè con vicenzolo mannaggia che buono io gli darei lo scar avete visto solo i vicenzovo sono inimitabili perché fatti secondo le antiche ricette di matilde vicenzi vicenzovo l'inimitabile straordinario questo torno straordinario nostro ovo è un torno leggendario torno nostro ovo ogni giorno straordinario caffè nescafè ti porta alla roma il calore di paesi lontani grana roma dal gusto morbido e pieno classic forte e deciso le grandi qualità di caffè nescafè è un prodotto Nestlé due modi per servire bitter campari tradizionali bitter campari con selso soda freschissimi on the rocks ghiaccio bitter campari e una fetta d'arancia campari una favola moderna nasce la nuova berlina cadetto il dolce stil nuovo 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 Grazie.